Flash, la guerra dal mirino, questo il titolo dell'incontro tenuto nel capoluogo presso la sala Fabio Besta nel pomeriggio di ieri. Alla cabina di regia l'istituto scolastico sondriese Carlo Donegani, il Rotary Club del capoluogo e Banca Popolare di Sondrio. Un lavoro capillare minuzioso, maturo, quello portato avanti, è culminato nell'incontro di ieri dinnanzi ad una sala Besta stipata dagli studenti della quinta classe ALS del liceo scientifico Donegani, di fatto seguito del volume realizzato dagli stessi studenti e che all'incontro ha dato il nome e nel quale sono contenute inedite fotografie scattate durante il primo conflitto mondiale. È su queste immagini, realizzate sul teatro di guerra da Luigi Marzocchi, fotografo del Comando Supremo durante la guerra del 1915-1918, che i giovani hanno operato un'attenta analisi, un'approfondita interpretazione, sminuzzando i particolari iconografici, interpretandoli, andando ben oltre l'immagine. L'esposizione affidata a Giulia, Alessia, Federica, Francesco, Sara, Silvia e Lucia. Quando spesso sentiamo parlare della guerra non capiamo molto bene la situazione perché è molto lontana dai giorni nostri, ma questo progetto ci ha permesso appunto di avvicinarsi a quei giorni e di capire cosa sia realmente la storia. A guidare l'articolata attività portata avanti dagli studenti del Donegani, gli insegnanti Mariella Londoni, Gianluca Moiser, Giuseppe Consoli, assieme alla dirigente Giovanna Bruno. Un lavoro composito che decodifica la memoria attraverso i mezzi tradizionali e quelli contemporanei. Da una parte il libro, il ricavato del quale è stato devoluto all'organizzazione Medici Senza Frontiere, dall'altra quel flash mob dal titolo Immagini di guerra, Immagini di pace, che nell'ottobre del 2018 vide interprete gli stessi giovani. Il risultato, coronato nell'incontro di ieri, sta lì a dimostrare come, quanto la scuola possa farsi ponte tra la modernità, della quale gli interpreti massimi sono gli stessi studenti, e la memoria, costruendo così una formazione civica. Siamo figli di una generazione, di un'epoca di pace, ma come è stato evocato nel dibattito, esistono le guerre a pezzi, e io mi sono permesso di dire che non è lontano Sondrio da Tripoli. È stato fatto un grande lavoro di riflessione, usando il massimo di innovazione, con il massimo di tradizione. Un'opera toccante, una nuova ottica, che, così come lo stereoscopio, avveniristico strumento che cento anni orsono, permetteva di poter visionare lastre fotografiche in un miracolo tridimensionale, apre oggi una prospettiva inedita su quei tanti giovani, diciottenni di un secolo fa. Senza alcun artificio del progresso, i loro occhi rimangono gli stessi di questi studenti. Abbiamo giovane generazioni di qualità, di grande qualità, che stasera hanno dimostrato come si possa partire da un documento storico, utilizzare le ultime tecnologie informatiche, digitali, e portare a un pubblico vastissimo, come quello stasera presente in sala, a riflettere su temi estremamente importanti.